Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è lunedì 14 febbraio 2022. Iniziamo insieme una settimana a partire dalle prime ore della giornata con la nostra rassegna stampa. Oggi non vi voglio dire chi è il santo del giorno perché lo sapete già, insomma poi io lo posso anche ripetere, perché è un santo molto conosciuto soprattutto dai ragazzi ma anche dalle persone anziane che sono ancora innamorate. Infatti oggi è San Valentino. San Valentino. San Valentino in realtà era un santo che ha sacrificato la sua vita per gli ideali della sua fede. Visse ai tempi dell'impero romano. Si era dedicato al servizio dei martiri imprigionati sotto l'imperatore Claudio II. Nacque nel 176 a Interamna nei pressi di Terni, quindi un santo umbro. A lui lui fu consacrato vescovo giovanissimo, pensate, soli 21 anni. Fu imprigionato e invitato ad abbiurare la sua fede come si faceva nei confronti dei cristiani e fu invitato a sacrificare all'imperatore ma ebbe un deciso rifiuto. Insomma Valentino non ne volle sapere. E allora fu fostigato, fu fostigato, flagellato quasi a morte ma non morì e fu quindi condannato alla decapitazione. Ebbene le sue reliquie si conservarono per tanto tempo nella chiesa di San Prassede a Roma e poi furono trasferite nei pressi di Terni, sulla collina nei pressi di Terni. Divenne dunque poi col passare del tempo il protettore dell'amore in tutto il mondo, il protettore degli innamorati, dei fidanzati, di coloro che si vogliono bene, ma non solo dei giovani, dicevo, di tutte le età perché l'amore non ha confini e non ha spazio di tempo. Dunque buon San Valentino a tutti. E vediamo ora le previsioni del tempo. Giriamo la grafica e vediamo che il tempo è cambiato rispetto alla settimana scorsa. La situazione è diventata instabile con piogge e rovesci sparsi. Questa mattina prima dell'alba c'era una piccola pioggia, una piovigine che comunque non lasciava presagire nulla di buono. Più stabile e asciutto il tempo tra l'Ascolano e il Fermano. I venti spirano sulle coste da sud-este, sull'interno da est-sud-este. Le temperature uscilleranno tra i 6 e gli 11 gradi. La massima dunque non è ancora molto fredda. E quindi passiamo alle notizie. Apriamo oggi il Corriere Adriatico. Lo apriamo sulla pagina di Fano e vediamo come l'apertura è dedicata ad una intervista che ha rilasciato l'assessore Etienne Lucarelli sui diversi temi che in questi giorni coinvolgono soprattutto la giunta fanese. Una giunta che soffre per divergenze di opinioni. Profonda divisione nella politica, intitola il giornale. Per la città dobbiamo fare sintesi e il fare sintesi è l'invito appunto dell'assessore Lucarelli. L'assessore si professa fedele alla linea del sindaco per ottenere risultati concreti. Aset, un divario da colmare. Si parla dunque del problema dell'Aset che ancora acquista le prime pagine dei giornali perché ancora non è stato risolto. C'è ancora questa perdurante frattura all'interno della maggioranza, all'interno stesso del Partito Democratico che è la forza politica più importante appunto della maggioranza. Ma ci sono anche altri problemi da risolvere e soprattutto problemi di carattere amministrativo che devono essere appunto risolti. Vediamo un tanto qualche dichiarazione. Il sindaco Seri, dice Tien Lucarelli, sta continuando a darci indicazioni chiare. Dobbiamo portare risultati concreti. Io voglio seguirlo. Essere produttivo nella progettazione di interventi che sappiano cambiare il volto della città. Se devo dirla tutta mi sento anche un po' imbarazzato però ha corretto un po' anche le sue dichiarazioni Lucarelli per l'immagine che stiamo trasmettendo ai cittadini e agli operatori economici. Insomma occorre fare di più, occorre ricomporre questa frattura altrimenti non si fa altro che danneggiare insomma la città. Un invito pressante dunque dall'assessore al turismo e al commercio della città di Fano. E si parla anche della mozione che è stata presentata da tre esponenti politici diversi e in un certo senso anche contrastanti quali Giovanni Clini del PD, Carla Luzzi di Incomune e Tommaso Mazzanti che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle. È una mozione intesa a togliere ogni dubbio sul futuro di Aset, ovvero a cancellare ogni possibilità che l'azienda partecipata dal Comune perda il suo requisito di azienda pubblica. La mozione presentata da Luzzi, Mazzanti e Clini è volta, dice il Corriere, ad escludere ogni ipotesi di fusione di Aset rispetto a qualsiasi offerta che non provenga da aziende in house, ovvero o si fa dentro casa o non si fa per niente. Poi qui abbiamo un incarico nuovo al sindaco Massimo Seri, un incarico per quanto riguarda dunque, è stato nominato Seri presidente, è stato nominato responsabile dell'area Comuni Europei di ALI, ALI è l'Associazione Autonomie Locali Italiani, presieduta dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Tale ruolo presuppone la partecipazione di Seri come componente effettivo dell'esecutivo nazionale dell'associazione, un ruolo di carattere rappresentativo che però può incidere perché quando i Comuni fanno unità, fanno comunione, qualcosa ottengono anche a livelli superiori. Vedi per esempio lo Stato, vedi il Parlamento, vedi gli organi legislativi. Una notizia di cronaca accaduta ieri mattina, per fortuna si è risolta senza gravi conseguenze. Una ragazza ubriaca camminava vicino ai binari tra Fano e Pesaro, poco fuori di Fano addirittura, perché è stata rintracciata dagli agenti del commissariato di Fano all'altezza poco prima di Gimarra, insomma all'altezza di Tano, siamo appena fuori dal centro storico. Era una ragazza di 17 anni che tornava a casa dopo aver passato una notte un po' allegra, infatti l'hanno riscontrata in preda ai fumi dell'alcol. L'allarme è stato dato da un macchinista che guidava un treno, la scorta di lontano che era molto vicino ai binari e barcollava, aveva un'andatura non molto stabile e quindi ha avvisato il 112, sono intervenuti appunto gli agenti del commissariato di Fano, intervenuto anche il 118 che ha trasportato la giovane al pronto soccorso dell'ospedale di Fano, dove è stata rimessa in sesto, è stata avvisata la madre e ora si cercherà di capire dove ha passato la notte questa ragazza e chi ha fornito l'alcol ad una ragazza di 17 anni e minorenne e quindi non doveva bere. Sinergia con Fano per Palazzo del Monte, si tratta dell'impiego dei fondi del PNRR che serviranno per il recupero di Palazzo del Monte a Monbaroccio e anche al recupero del Palazzo del Balì che si trova nel comune di Saltaro o Cartoceto, adesso non ricordo bene, comunque è da quelle parti sulla collina che è di proprietà del comune di Fano. Terre rovesche, sicurezza stradale e decoro grazie alla rotatoria. Il sindaco annuncia l'intervento a Orciano all'incrocio tra le provinciali 16 e 5, una nuova grande rotatoria all'incrocio tra la provinciale 16 di Orciano e la 5 mondoviese nel centro abitato del paese di Orciano di Pesaro. Un investimento considerevole, ammonta 230 mila euro e i lavori, se tutto procederà senza intoppi, questo bisogna dirlo sempre, saranno appaltati entro pochi mesi una infrastruttura in più per garantire la sicurezza del traffico in un punto nevralgico per quanto riguarda la frequentazione degli autoveicoli. Vediamo ancora domani il giorno di vaccinazioni con il camper e al centro salute, il mattino a San Michele e al pomeriggio a Orciano. Dunque un doppio appuntamento nella Val Cesano per chi deve vaccinarsi. A Mondavio farà tappa il camper vaccinale organizzato dall'Azur e dalla Regione Marche. L'appuntamento è dalle 9 alle 13 nei pressi della palestra comunale di San Michele al Fiume, che si trova in via Loreto. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, aprirà invece l'Hub vaccinale nel centro salute dottor Carlo Amodio a Orciano. È stato attivato grazie alla collaborazione dei comuni di Terre Roveresche e Mondavio, alla disponibilità dei medici di medicina generale e al supporto dei volontari dell'impresa sociale cooperativa articolo 32. Dunque anche il volontariato ha concorso a questa iniziativa. Vediamo Senigallia, il foro annonario sorvegliato speciale. Qui è avvenuto un fatto di cronaca eclatante che non può essere trascurato dalle forze dell'ordine. Una task force ha patugliato la zona della Movida fino a tardanotte tra sabato e domenica. Non sono emerse per fortuna irregolarità, ma proprio in questo punto, nei giorni scorsi, un quarantenne senigallese è stato malmenato, un pestaggio veramente senza precedenti, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia maxillofaciale dell'ospedale di Torrette di Ancona, dopo essere stato aggredito per futili motivi. Dunque veramente un episodio inqualificabile. Caro Bollette Corinaldo non oscura i monumenti. Il sindaco siamo sempre una parte dello Stato. Il comune di Corinaldo non ha voluto spegnere un monumento per protestare contro il caro Bollette. Molti si sono chiesti il motivo. E il sindaco Matteo Principi, controcorrente, ieri su Facebook, ha voluto spiegare il perché di questa scelta. Insomma, una scelta decisa appunto coscientemente dal comune di Corinaldo. Siamo ora nella pagina regionale, vediamo come va il problema sanitario e vediamo che si annuncia una scadenza. Da domani si va al lavoro solo con il Green Pass per gli over 50. Sprint vaccini. Molti si stanno appunto vaccinando. Ultimo step dunque sulle vaccinazioni anti-Covid che coinvolge i marchigiani over 50 da domani per recarsi al lavoro. Questi ultimi dovranno presentare obbligatoriamente il Super Green Pass. Una misura, lo sappiamo, decisa dal Governo per cercare di proteggere soprattutto la fascia considerata una delle più refrattarie alla profilassi con il virus. Al momento tra i 50 e i 59 anni mancano all'appello 24.509 cittadini su una platea di 236.559. Mentre tra coloro che hanno un'età superiore, ovvero tra i 60 e i 69 anni che devono ancora vaccinarsi, sono 15.292 su 194.699. A questi ovviamente vanno sottratti i casi in cui la vaccinazione non è consigliata per questioni di carattere medico e sanitario. E poi vediamo sulla pagina di Pesaro il problema degli effetti che la crisi e anche il Covid sta manifestando nei confronti delle categorie. In questo caso si parla degli albergatori. Si spera nella Final Eight come un primo test per una rinascita. Inevitabili dunque i rincari dei pacchetti turistici per quanto riguarda l'aumento anche di costi che devono subire gli albergatori. Si parla di un 20-25% in più sulle tariffe per un soggiorno con pensione completa oppure mezza pensione. E si guarda con fiducia alle imminenti Final Eight di basket dal 16 al 20 febbraio prossimo che si disputeranno alla Vitifrigo Arena. Questi dovrebbero segnare il ritorno delle competizioni e del turismo sportivo che è un apporto considerevole al settore turistico perché poi vengono nelle città in cui si svolgono queste iniziative atleti, accompagnatori, anche familiari e quindi gli alberghi si riempiano. Però bisogna fare i conti anche con il caro bollette e quindi gli albergatori appunto appare in questo articolo dicono che dovranno essere ritoccate anche le tariffe. Il Comune gioca d'anticipo Movida gli orari già fissati, una ordinanza a discipline all'ascolto della musica tra centro, mare e periferia, una ordinanza un pochino più restringente, un'ordinanza fresca di pubblicazione a Pesaro che consente l'ascolto della musica compresa dal vivo e caracoche fino alle tre di notte in diverse zone. E qui in questo articolo vengono segnalate queste zone. Si tratta di Viale Trieste, dalla zona di Villa Marina, sulle lungomare di Ponente, a Baia Flaminia, includendo anche Via Caboto, Via Lungofoglia delle Nazioni, Viale Parigi, Viale Berna, Largo Berlino, Via Bruxelles, Viale Londra e Piazza Europa, compresa ed inclusa l'area portuale. In Soldoni è un po' la zona dove si concentra la Movida dei giovani. E poi ancora l'ordinanza è valida nella strada delle Marche, nel tratto terminale di Levante e Sottomonte e precisamente dall'inizio della pista ciclabile, dopo la rotatoria di Viale Trieste, lato Fano fino al confine con il Comune di Fano. E poi ci sono anche altre indicazioni su cui appunto si entra in validità questa ordinanza che può consentire il fare musica non più tardi delle tre di notte. Insomma, un orario fissato in anticipo. Brancati, la scuola più all'avanguardia, può ora freggiarsi di un'altra conquista. A Pantano si realizzerà la prima aula natura WWF senza banchi, lavagne e nemmeno il tetto. Pensate che bello studiare e apprendere appunto le nozioni all'aperto, senza così, senza avere chiusure, banchi, insomma tetto, aules, eccetera. È una cosa completamente nuova. Si tratta di una iniziativa che viene illustrata sul giornale dai consiglieri comunali del PD Anna Maria Mattioli e Giampiero Bellucci del quartiere di Pantano. Il progetto prevede la costruzione di strutture verdi di supporto alla didattica in grado di garantire la delimitazione di uno spazio e l'opportuno distanziamento tra gli allunni. Ovvero, che cosa si farà? Si farà uno stagno, delle siepi, un bug hotel, il condominio per le farfalle, le piante officinali. Dunque, questo è il teatro dove si apprenderà un po' l'assetto della natura, insomma, fare didattica all'aperto. Speriamo che non piova, ovviamente. Però piove dentro la nostra casa popolare. Tanti reclami, ma nessuno interviene. È la protesta di una famiglia che abita in una casa popolare di via Mengaroni, alle prese con infiltrazioni, chiazze e muffa. L'Istituto Case Popolari, ovvero l'ERAP, non riesce a far fronte a tutte le manutenzioni delle case popolari. Alcune le vende e dovrebbe poi riempiegare il ricavato nella ristrutturazione, nella manutenzione delle case, quelle che datano diverso tempo e quindi hanno bisogno di ristrutturazione. Ancora sulla pagina della Valle Foglia. Basta rischi lungo la strada tra Pesaro e Monbaroccio. Biagiotti della Lega sollecita interventi urgenti al Presidente della Provincia. La strada provinciale 32 è molto pericolosa. Il manto stradale è rovinato. C'è poi la presenza di dossi, ma anche il rischio idraulico in caso di piogge oppure di gelate. Insomma, si scivola. Occorre correre ai ripari. E sulla pagina di Urbino abbiamo un articolo che riguarda il completamento della superstrada Fano-Grosseto. Balvelli, ora sblocchiamo l'incompiuta e qui ancora non si capisce molto bene se l'ANAS va avanti con le due corsie oppure, insomma, c'è la possibilità che queste, come la Regione ha indicato, vengono realizzate a quattro corsie. Vengono realizzate a quattro corsie. Dunque, vediamo qui in questo trafiletto. Si procederà con un tracciato nuovo a due corsie già progettato per il raddoppio. Vedremo, insomma, se poi questo raddoppio si riuscirà a farsi. A questo punto vediamo anche il resto del Carlino, dove la prima pagina è dedicata alla riapertura delle discoteche, tutti in pista ma blindati. Vediamo qui una foto dove le mascherine sono un optional, sono in pista, però vediamo anche che alcune persone che sono sedute ai tavoli, che le mascherine non ce l'hanno, insomma, occorre però essere ligi alle prescrizioni per evitare che poi si richiuda il tutto. L'ultima follia, Novax, felice di contagiarsi. Ci sono alcune persone, ha evidenziato il dottor Marco Delbianco, che è coordinatore dell'EUSCA, ci sono alcune persone che sono contente di prendere il virus, perché così possono avere anche il Green Pass. Finalmente in pista, senza mascherina, il MIU riapre blindato, 20 addetti alla sicurezza, controlli serrati nella disco di Marotta, sul fronte virus e su quello del sano divertimento, tra virgolette. Tutti col Super Pass riapre anche il Masai, e sono le due discoteche che operano nel nostro territorio. Sabato sera, dopo due mesi di chiusura, gli ingressi hanno sfiorato quota 800 tra il ristorante e la discoteca a Marotta. Insomma, soddisfatto il titolare, Emilio Dianisi, di 24 anni, e soddisfatto il titolare anche del Masai. Il sentire comune tra i gruppi di giovani in coda all'ingresso era la voglia di incontrarsi e divertirsi finalmente guardandosi negli occhi o almeno in pista senza mascherina. Non tutti però hanno potuto varcare la soglia dell'entrata. Infatti c'erano alcuni che, pensate, erano sprovvisti di requisiti ritenuti imprescindibili. Ovviamente il Super Green Pass era quello essenziale. Poi anche l'abbigliamento consono, ovvero non trasandato, non essere ubriachi e non inclusi nella blacklist dei faccinorosi. Un controllo dunque molto molto serrato. Giriamo ancora la pagina. Vediamo come si parla ancora del pronto soccorso. Introvabili nuovi medici. A vuoto è andato un nuovo bando, quello per cinque camici bianchi a tempo determinato. Il direttore sanitario succede in tutta Italia. Ecco come noi troviamo rinforzi. E come si trovano rinforzi? Per sopperire ai buchi di organico tutti i medici a turno, tutti i medici che fanno servizio negli ospedali di Marche Nord, a turno vanno in pronto soccorso. È l'unica possibilità di garantire il servizio. Anche il resto del Carlino parla della notizia di cronaca della ragazza ubriaca che camminava al lato dei binari. Un atteggiamento molto pericoloso. Salvata una diciassettenne. E poi vediamo detenuto da fuoco al materasso un agente a Villa Fastigi intossicato dal fumo. Paura dunque per questo agente della polizia penitenziaria che è stato portato in ospedale con urgenza sabato notte per aver respirato dei fumi tossici. Tutto era dovuto al gesto dimostrativo di un detenuto che ha dato fuoco ad un materasso facendo sprigionare un fumo nero denso che ha rilasciato sostanze tossiche respirate appunto dal agente. Comunque c'è anche la precisazione che tutti i materassi, dotazione ai detenuti, sono ignifughi. Ancora girando la pagina voglio concludere la nostra rassegna stampa. Poi però parleremo anche un po' di sport con questa bella pagina che il resto del Carlino dedica a San Valentino. Buon San Valentino aspettando il sereno e vediamo appunto come persone di tutta l'età abbiamo giovani, bambini, anziani insomma adulti che si vogliono bene e quindi oggi è la loro festa. Diamo anche un'occhiata allo sport vediamo che per la Vis è andata così così per il Fano Calcio è andata bene per la VL invece per il Basque è andata in maniera disastrosa. Tonso fa il gigante la Vis riprende il derby con la Fermana Fermana avanti a fine primo tempo poi i biancorossi accelerano e trovano il pari con l'argentino ovvero Tonso che svetta tra i granatieri canarini. Abbiamo anche un giudizio positivo di banchini determinati e propositivi e poi Martin ci ha dato qualità ha detto il tecnico del Pesaro il tecnico soddisfatto della prestazione bravi hanno cercato anche di ribaltare il risultato di portare a casa una vittoria. Per quanto riguarda invece il Fano Calcio Broso espugna il Castelfidardo il risultato è Castelfidardo 0 quindi il Fano ha giocato in trasferta e l'Alma 1 quindi un punto molto prezioso che si trasforma in tre punti in classifica. Il Fano conquista tre punti pesantissimi nello scontro salvezza buon primo tempo con un palo e il gol poi ripresa di contenimento insomma si è cercato di contenere l'offensiva degli avversari e ciò è stato possibile. Invece vediamo che per quanto riguarda la VL la situazione è stata veramente disastrosa una VL senza anima sprofonda a Milano il risultato VL 57 Armani Milano 91 punti un risultato che non lascia commenti insomma possibilità di altri commenti squadra lontana parente di quella che aveva fatto l'impresa un mese fa dopo solo un quarto la sfida era già andata agli archivi ovvero insomma si capiva benissimo che per quella giornata non ci sarebbe stata storia e così la VL si porta a casa una sconfitta su cui rimuginare e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 7 e per le notizie del giorno a occhio alla notizia di Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 questo è tutto per il momento buona giornata a domani 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 a domani